Mi scusi, dei tre telefoni qual è come se fosse Terapia Tappiocco che ha avverto la supercazzola? Dei tre. Non mi ha capito bene, volevo dire, dei tre telefoni qual è quello col prefisso? Ah, quello lì. Grazie. Sorella, o Terapia Tappiocco come se fosse Antani la barella anche per due... ... faccialo fare non lo vede che fa è brutta allora non lo vede che fa non lo vede che fa non lo vede che fa non lo vede che fa